37. L'oscurità li sorprese a poca distanza dalla fattoria degli Jaspin. Josh legò con lo spago la lanterna antivento davanti alla cariola. Liona aveva dovuto fermarsi più o meno ogni mezz'ora e mentre lei poggiava la testa in grembo a suon, Josh le massaggiava delicatamente le gambe. Le lacrime che Liona versava per il dolore delle sue ginocchia con i reumatismi, si incrociavano nella polvere che le copriva le guance. Comunque non emise nessun suono e non si lamentò. Dopo aver riposato per qualche minuto si rimetteva in piedi a fatica e continuavano il viaggio su praterie ondulate, rese nere e oleose dalle radiazioni che le avevano bruciate. Il raggio della lanterna cadde su uno steccato alto circa un metro e venti e quasi abbattuto dal vento. «Credo che siamo vicini alla casa», disse Liona. Josh portò la cariola dall'altro lato dello steccato, poi sollevò suon e la calò dall'altra parte e aiutò Liona a superarlo. Davanti a loro c'era un campo di gran turco nero, con gli stocchi malati alti quanto Josh che ondeggiavano avanti e indietro come delle strane alghe sul fondo di uno stagno viscido. Ci misero quasi dieci minuti per arrivare dall'altro lato del campo e il raggio della lanterna colpì il fianco di una casa che un tempo era pitturata di bianco, ma che adesso era macchiata di marrone e giallo, come la pelle di una salamandra. «Quella è la casa di Homer e Maggie», gridò Liona nel vento. La casa era al buio e non si vedeva nemmeno una candela o una lanterna. Non c'era neanche segno di un'auto o un furgone, da nessuna parte. Ma qualcosa stava facendo un suono di colpi, forte e irregolare, sulla destra, oltre la portata della luce. Josh slegò la lanterna e camminò verso il suono. A quindici metri dietro la casa c'era un fienile rosso dall'aspetto robusto. Una delle sue porte era aperta e il vento la faceva sbattere contro la parete. Josh tornò alla casa e diresse la luce sulla porta d'ingresso. Era spalancata, la porta a zanzariera era aperta e anche essa batteva avanti e indietro nel vento. Disse a suone Liona di aspettare dove si trovavano ed entrò nella buia casa degli Jaspin. Una volta all'interno iniziò a chiedere se ci fosse qualcuno in casa, ma non ce n'era bisogno. Sentiva l'odore marcio della carne in decomposizione e quasi dovette vomitare. Dovette aspettare per un lungo momento chino sopra una sputacchiera decorativa di bronzo con dentro un mazzetto di margherite morte, prima di essere sicuro che non avrebbe vomitato. Poi iniziò a muoversi attraverso la casa, spostando lentamente la luce da un lato all'altro, in cerca dei cadaveri. All'esterno, suono di un cane abbaiare furiosamente nel campo di Gran Turco Nero che avevano appena attraversato. Sapeva che il terrier li aveva seguiti per tutto il giorno, non avvicinandosi mai a meno di sei metri e sfrecciando via quando suon si chinava per chiamarlo. Il cane ha trovato qualcosa là fuori, pensò suon. Oppure qualcosa ha trovato lui. L'abbaiare era urgente, come se dicesse «Vieni a vedere cosa ho trovato!» Suon mise giù la borsa e appoggiò Crybaby contro la carriola. Fece un paio di passi verso il campo nero ondeggiante. Liona disse «Bambina! Josh ha detto di non muoverci da qui!» «Va tutto bene», rispose lei, e fece altri tre passi. «Suon!» l'ammonì Liona quando si rese conto di dove si stava dirigendo la bambina. Si mosse per seguirla, ma un dolore immobilizzante le esplose nelle ginocchia. «Faresti meglio a non andare là dentro!» L'abbaiare del terrier chiamava Suon, e lei entrò nel campo. Gli stocchi neri si chiusero alle sue spalle. Liona gridò «Suon!» Dentro la casa, Josh seguì il raggio di luce in una piccola sala da pranzo. Un armadio era stato spalancato, e il pavimento era ricoperto di schegge e frammenti di stoviglie. Delle sedie erano state spaccate contro la parete, e un tavolo da pranzo era stato fatto a pezzi. La puzza di decomposizione era più forte. La luce illuminò qualcosa scribacchiato sulla parete. «Tutti lodino Lord Alvin». «È scritto con vernice marrone», pensò Josh. «Ma no! No!» Il sangue era colato lungo il muro, e si era raccolto in una piccola macchia incrostata sul pavimento. Una porta attirò la sua attenzione. Fece un respiro profondo, filtrando l'orribile puzza tra i denti serrati, e l'attraversò. Era in una cucina con stipetti dipinti di giallo e un tappeto scuro. E lì li trovò. Quello che restava di loro. Erano stati legati a delle sedie con del filo spinato. Il volto della donna, incorniciato da capelli grigi, chiazzati di sangue, sembrava un portaspilli gonfio, infilzato da un assortimento di coltelli, forchette e quei piccoli spiedi a due rebbi che si infilano nelle estremità di una pannocchia. Sul petto nudo dell'uomo, qualcuno aveva disegnato un bersaglio con il sangue, e si era esercitato con una pistola di piccolo calibro, o un fucile. «Oh, mio Dio!» gracchiò Josh, e questa volta non riuscì a trattenere il vomito. Arrancò nella cucina, verso il lavandino, e vi si chinò sopra. Ma la luce della lanterna, oscillando nella sua mano, gli mostrò che il lavandino era già occupato. Quando Josh urlò di orrore e repulsione, le centinaia di scarafaggi che coprivano la testa tagliata di Homer Jaspin fuggirono e strisciarono all'impazzata sul lavandino e sul piano della cucina. Josh barcollò all'indietro, con la bile che gli bruciava la gola, e i suoi piedi scivolarono. Cadde a terra, dove c'era il tappeto scuro, e sentì delle cose camminargli su braccia e gambe. Il pavimento si rese conto. Il pavimento. Il pavimento intorno ai cadaveri era ricoperto da tre centimetri di scarafaggi che si impennavano e strisciavano. Mentre gli scarafaggi sciamavano sul suo corpo, Josh ebbe un improvviso pensiero ridicolo. «Non puoi uccidere queste cose. Nemmeno un disastro nucleare può ucciderle». Saltò su dal pavimento, scivolando sugli scarafaggi, e iniziò a fuggire da quella cucina terribile, schiacciando quelle cose mentre correva e sbattendo le vie dai vestiti e dalla pelle. Cadde sul tappeto, nella stanza sul davanti, e vi si rotolò sopra selvaggiamente. Poi si alzò di nuovo e si precipitò verso la porta a zanzariera. Liona sentì il rumore di legno che si frantuma e della zanzariera che si lacera, e si voltò verso la casa appena in tempo per vedere Josh portarsi appresso l'intera porta, come un toro che carica. «Eccone distrutta un'altra», pensò. E poi vide Josh gettarsi a terra e iniziare a rotolare, schiacciando e contorcendosi, come se fosse finito in un nido di calabroni. «Che succede?» gridozzo, piccando verso di lui. «Che diavolo ti prende?» Josh si mise in ginocchio. Stava ancora tenendo la lanterna, mentre con l'altra mano si colpiva di qua e di là. Liona si fermò, perché non aveva mai visto un terrore simile in degli occhi umani in tutta la sua vita. «Che cosa è?» «Non entrare là dentro! Non entrare là dentro!» farfugliò lui, contorcendosi e tremando. Uno scarafaggio gli corse sulla guancia e lui lo afferrò e lo scagliò via con un brivido. «Sta fuori da quella dannata casa!» «Lo farò», promise lei, e guardò verso il rettangolo scuro dove c'era la porta. Fu raggiunta da un pessimo odore. Aveva già sentito quel fetore prima, a Sullivan, e sapeva di che si trattava. Josh sentì abbaiare un cane. «Dov'è Swan?» si alzò in piedi, ancora ballando e sussultando. «Dov'è andata?» «Là dentro!» Leone indicò il campo nero. «Le ho detto di non farlo!» «Dannazione!» disse Josh, perché si era reso conto che chiunque avesse fatto quello a Homer e Maggie Jaspin poteva essere ancora nei dintorni, magari proprio in quel fienile a osservare e attendere. Forse era nel campo con la bambina. Tirò fuori la pistola e la scatola di proiettili dalla carriola e ne infilò rapidamente tre nei loro alloggiamenti. «Tu resta proprio qui!» disse a Leona. «E non entrare in quella casa!» Poi, con la lanterna in una mano e la pistola nell'altra, corse nel campo di Gran Turco. Swan stava seguendo i latrati del terrier. Il suono si alzava e abbassava con il vento e intorno a lei gli stocchi morti di Gran Turco frusciavano e ondeggiavano, afferrandole i vestiti con tentacoli simili al cuoio. Si sentiva come se stesse camminando in un cimitero, in cui tutti i cadaveri erano dritti, ma i latrati frenetici del cane la trascinarono avanti. C'era qualcosa di importante nel campo, qualcosa che il cane voleva che vedesse e lei era determinata a scoprire di cosa si trattava. Pensò che l'abbaiare arrivava da sinistra e iniziò a muoversi in quella direzione. Alle sue spalle sentì Josh gridare «Swan!» e lei rispose «Sono qui!» Ma il vento aveva girato. Continuò a camminare, sollevando le mani per proteggersi il volto dagli stocchi che la frustavano. L'abbaiare era più vicino. «No!» pensò Swan. Adesso si stava di nuovo spostando a destra. Continuò a camminare e pensò di sentire di nuovo Josh che la chiamava. «Sono qui!» gridò, ma non ebbe risposta. L'abbaiare si spostò di nuovo e Swan capì che il terrier stava seguendo qualcosa o qualcuno. Il latrato diceva «Veloce! Veloce! Vieni a vedere che ho trovato!» Swan aveva fatto altri sei passi. Quando sentì qualcosa arrivare nella sua direzione con un gran fracasso, la voce del terrier diventò più forte, più urgente. Swan restò ferma, osservando e tendendo l'orecchio. Il suo cuore iniziò a battere forte e lei sapeva che qualunque cosa ci fosse là fuori stava venendo nella sua direzione e si avvicinava. «Chi è là?» gridò. Il frastuono stava arrivando direttamente da lei. «Chi è là?» Il vento portò via la sua voce. Vide qualcosa venire verso di lei attraverso il gran turco. Qualcosa di non umano. Qualcosa di enorme. Non riusciva a distinguerne la sagoma o a capire cosa fosse. Ma sentì un suono rombante e arretrò, con il cuore pronto a esploderle dal petto. L'enorme cosa senza forma stava andando dritta verso di lei, attraversando gli stocchi morti e ondeggianti. E tra pochi secondi l'avrebbe raggiunta. Voleva scappare, ma i suoi piedi erano incollati a terra e non c'era tempo, perché la cosa stava caricando verso di lei e il terrier stava abbaiando un allarme urgente. Il mostro passò tra gli stocchi e torreggiava su di lei e Swan emise un urlo. Riuscì a muovere i piedi, barcollò all'indietro, all'indietro, cadde, colpì il terreno con il sedere e restò seduta lì, mentre le gambe del mostro scalciavano verso di lei. «Swan!» urlò Josh, uscendo dagli stocchi alle sue spalle e dirigendo la luce verso la cosa che la stava per calpestare. Abbagliato dalla luce, il mostro si fermò di colpo e si impennò sulle zampe posteriori, soffiando vapore attraverso le narici dilatate. E sia Swan che Josh videro di che si trattava. Un cavallo. Un cavallo pezzato a macchie bianche e nere, con occhi spaventati e zoccoli enormi pelosi. Il terrier stava guaendo tenacemente alle sue calcagna, e il pezzato nitriva di paura, danzando sulle zampe posteriori per alcuni secondi, prima di tornare a terra a pochi centimetri da dove Swan sedeva, nella terra. Josh agganciò il braccio di Swan e la tirò lontana dal pericolo, mentre il cavallo scalciava e si girava con il cane che gli correva intorno alle zampe con coraggio indomito. Swan stava ancora tremando, ma seppe all'istante che il cavallo era più terrorizzato di lei. Si voltava di qua e di là, confuso e frastornato, in cerca di una via di fuga. L'abbaiare del cane lo stava spaventando ancora di più, e all'improvviso Swan si liberò da Josh e fece due passi in avanti, andando quasi sotto il naso del cavallo. Sollevò le mani e batte i palmi proprio davanti al muso del cavallo. Il cavallo trassalì, ma smise di agitarsi. I suoi occhi colmi di paura erano fissi sulla bambina, il vapore usciva dalle sue narici e i suoi polmoni rombavano. Le sue zampe tremavano, come se avessero potuto cedere o fuggire. Il terrier continuava a guaire, e Swan puntò un dito verso di lui. «Zitto!» disse. Il cane si allontanò di qualche metro, ma trattenne il latrato successivo. Poi, come se avesse deciso di essersi avvicinato troppo agli umani e di aver compromesso la sua indipendenza, sfrecciò via nel campo di Gran Turco. Restò a distanza e continuò ad abbaiare di tanto in tanto. L'attenzione di Swan era diretta verso il cavallo, e lei teneva lo sguardo fisso negli occhi dell'animale. La sua testa, grossa e brutta, tremava, desiderosa di allontanarsi da lei, ma o non voleva o non poteva farlo. «È un maschio o una femmina?» chiese sua onna Josh. «Eh?» Lui pensava ancora di sentire gli scarafaggi correre su e giù per la sua spina dorsale, ma sollevò il raggio della lanterna. «Un maschio?» disse. «È un bestione di maschio», pensò. «Scommetto che non vede delle persone da molto tempo. Guardalo. Non sa se essere felice di vederci o scappare via». «Doveva appartenere agli Jaspin», disse Josh. «Gli hai trovati in casa?» La bambina continuò a guardare gli occhi del cavallo. «Sì, voglio dire no, non li ho trovati. Ho trovato le loro tracce. Devono aver fatto i bagagli ed essersene andati». Non avrebbe permesso in alcun modo a Suon di entrare in quella casa. Il cavallo brontolava nervosamente e le sue gambe si muovevano da un lato all'altro di qualche passo. Suon sollevò lentamente la mano verso il muso dell'animale. «Stai attenta», l'ammoni Josh. «Po' staccarti le dita di netto!» Suon continuò a sollevare la mano, lentamente e con sicurezza. Il cavallo arretrò, con le narici allargate e le orecchie che sbattevano avanti e indietro. Abbassò la testa, anusando il suolo. E poi finse di guardare in un'altra direzione, ma Suon vide che l'animale la soppesava, tentando di prendere una decisione su di loro. «Non ti faremo del male», disse Suon, piano, con voce tranquillizzante. Fece un passo verso l'animale e questo sbuffò un avviso nervoso. «Stai attenta! Potrebbe caricarti o altro!» Josh non sapeva assolutamente niente di cavalli e lo avevano sempre spaventato. Questo era grosso, brutto e sgraziato, con zoccoli pelosi, una coda molle e una schiena incurvata che sembrava indicare che al posto della sella gli avessero messo un incudine. «Non è proprio sicuro di noi», gli disse Suon. «Sta ancora decidendo se fuggire o meno, ma credo che sia abbastanza felice di vedere di nuovo delle persone». «Che sei un'esperta di cavalli?» «No, riesco a capirlo dalla posizione delle orecchie e dal modo in cui la sua coda si muove di qua e di là. Guarda come ci stanno usando, non vuole sembrare troppo amichevole. I cavalli sono molto orgogliosi. Credo che a questo la gente piaccia e che si è sentito solo». Josh fece spallucce. «Io di certo non vedo nulla di tutto questo». «Mia mamma e io vivevamo in un motello una volta, vicino a un prato in cui pascolavano i cavalli di qualcuno. Ero solita arrampicarmi sul recinto e camminavo in mezzo a loro e immagino di aver imparato anche come parlare con loro». «Parlare con loro? Ma dai!» «Beh, non con un linguaggio umano», si corresse lei. «Un cavallo parla con le orecchie, con la coda e con il modo in cui tiene la testa e il corpo. Sta parlando in questo momento», disse mentre il cavallo sbuffava ed emetteva un nitrito nervoso. «Cosa sta dicendo?» «Sta dicendo che vuole sapere di cosa stiamo parlando». Suon continuò a sollevare la mano verso il muso dell'animale. «Attenta alle dita!» Il cavallo arretrò di un passo. La mano di Suon continuò a sollevarsi, lentamente. «Nessuno ti farà del male», disse la bambina, con una voce che a Josh sembrò la melodia di un liuto o di una lira o di un qualche strumento che l'umanità aveva dimenticato come suonare. Il suo suono tranquillizzante gli fece quasi dimenticare gli orrori legati alle sedie nella casa degli di Jaspin. «Avanti», disse Suon. «Non ti faremo del male». Le sue dita erano a pochi centimetri dal muso e Josh iniziò ad allungare una mano per tirarla via, prima che quei denti gliele staccassero. Le orecchi del cavallo si agitarono e si abbassarono in avanti. Sbuffò di nuovo, diede un colpo di zoccolo al terreno e abbassò la testa per accettare il tocco di Suon. «Bene così», disse lei. «Bene così, ragazzo». Gli grattò il muso e il cavallo le spinse interrogativamente il braccio con il naso. Josh non ci avrebbe creduto se non l'avesse visto. Comunque, probabilmente Suon aveva ragione. Semplicemente al cavallo mancavano le persone, credo ti sia fatta un amico. Non sembra granché come cavallo, comunque. Sembra un mulo dalla groppa inarcata in un vestito da clown. Io penso che sia carino a modo suo. Suon strofinò tra le orecchie del cavallo e l'animale abbassò ubbidiente la testa, in modo che lei non dovesse allungarsi così tanto. Gli occhi del cavallo erano ancora spaventati e Suon sapeva che se avesse fatto un movimento improvviso l'animale sarebbe scappato nel campo di Gran Turco e forse non sarebbe tornato, per cui fece solo movimenti lenti e precisi. Pensò che probabilmente era un cavallo vecchio, perché nella sagoma curva della sua testa e dei fianchi c'era una pazienza stanca, come se fosse rassegnato a una vita passata a tirare un aratro attraverso lo stesso campo in cui si trovavano. La sua pelle maculata tremava e si sollevava, ma permise a Suon di strofinargli la testa e con la gola fece un suono basso che assomigliava a un sospiro di sollievo. «Ho lasciato Liona vicino alla casa», disse Josh. «Faremo meglio a tornare». Suon annui e diede le spalle al cavallo, seguendo Josh attraverso il campo. Aveva percorso una mezza dozzina di passi, quando poté percepire, più che sentire, i pesanti passi sul terreno dietro di lei. Si guardò oltre la spalla. Il cavallo si fermò, pietrificato come una statua. Suon continuò a seguire Josh e il cavallo li seguì a una distanza rispettosa, camminando al proprio passo tranquillo. Il terrier arrivò di corsa e abbaiò un paio di volte, solo per il gusto di dare fastidio, e il pezzato scalciò con uno zoccolo posteriore, con sdegno, e colpì il cane con la terra. Liona sedeva a terra e si massaggiava le ginocchia. La luce di Josh si stava avvicinando e quando ricomparvero dal campo vide Suon nel cavallo nel riverbero della luce. «Oh Signore Onnipotente, che avete trovato?» «Questo animale correva mezzo in selvaticchito là fuori», le disse Josh, aiutandola ad alzarsi in piedi. «Sony ha incantato i ferri agli zoccoli e lo ha calmato». «Oh?» Liona incrociò lo sguardo della bambina e sorrise astuta. «Ma davvero?» Liona si avvicinò zoppicando per dare un'occhiata al cavallo. «Doveva essere di Homer. Aveva tre o quattro cavalli qui». «Beh, non è l'animale più bello che abbia mai visto, ma ha quattro zampe forti, no?» «A me sembra un mulo», disse Josh. «Quegli zoccoli sono grossi come padelle». Sentì l'odore di decomposizione proveniente dalla casa degli Jaspin. La testa del cavallo si spostò di colpo e l'animale nitri, come se anch'esso sentisse l'odore della morte. «Faremo meglio a ripararci da questo vento». Josh indicò il fenile con la sua lanterna. La rimise nella carriola insieme alla pistola e andò avanti per accertarsi che chiunque avesse ucciso Homer e Maggie non fosse nascosto all'interno in loro attesa. Si chiese chi fosse Lord Dalvin, ma di certo non aveva alcuna fretta di scoprirlo. Alle sue spalle Swan raccolse la sua borsa e Crybaby, e Liona la seguì con la sua valigia. A una certa distanza li seguiva il cavallo e il terrier abbaiava dietro di loro e iniziò a vagare per il terreno come un soldato di pattuglia. Josh esaminò il fenile accuratamente e non scoprì nessuno all'interno. C'era molta paglia sparsa in giro e il cavallo entrò insieme a loro comportandosi come se fosse a casa sua. Josh prese le coperte dalla carriola, appese la lanterna a una parete e aprì un barattolo di stufato di manzo per la loro cena. Il cavallo annusò intorno a loro per un po', più interessato alla paglia che allo stufato in scatola. Tornò quando Josh aprì uno dei barattoli d'acqua e gliene versò un po' in un secchio vuoto. Il cavallo la beve tutta e tornò per averne ancora. Lui lo accontentò e l'animale calpestò il terreno come un puledro appena nato. Via di qua, mulo, disse l'uomo quando la lingua del cavallo tentò di infilarsi nel barattolo di vetro. Quando la maggior parte dello stufato fu consumata e restava solo il brodo, Suon portò il barattolo all'esterno e lo lasciò lì per il cane insieme al resto dell'acqua del barattolo. L'animale si avvicinò fino a tre metri e poi aspettò che Suon tornasse nel fienile, prima di avvicinarsi ancora. Suon dormì sotto una delle coperte. Il cavallo, che Josh aveva battezzato mulo, camminò avanti e indietro, masticando paglia e guardando la casa attraverso la porta rotta del fienile. Il terrier continuò a pattugliare l'area ancora per un po' e poi trovò un posto in cui ripararsi, all'esterno di una delle pareti, e si sdraiò per riposare. «Erano entrambi morti», disse Liona, quando Josh si sedette contro un palo con una coperta tirata sulle spalle. «Sì». «Vuoi parlarne?» «No, e nemmeno tu. Avremo un'altra giornata lunga e dura domani». Lei attese per qualche minuto ancora, per vedere se glielo avrebbe detto o meno, ma non voleva saperlo davvero. Si avvolse nella coperta e provò a dormire. Josh aveva paura di chiudere gli occhi, perché sapeva cosa lo aspettava dietro le palpebre. Dall'altro lato del fienile, mulo brontolava tranquillo. Era un suono rassicurante, come quello del calore che entra in una stanza fredda attraverso una bocca d'aerazione o un banditore cittadino che annuncia che tutto va bene. Sapeva che doveva dormire e stava per chiudere gli occhi. Quando colse un piccolo movimento proprio alla sua destra, guardò e vide un piccolo scarafaggio strisciare lentamente sui fili di paglia sparpagliati. Josh strinse il pugno e fece per abbatterlo sull'insetto, ma la sua mano si fermò a mezz'aria. «Ogni cosa vivente ha il suo modo per parlare e conoscere», aveva detto Swan. «Ogni cosa vivente». Trattenne il colpo assassino, guardando l'insetto farsi strada con tenacia, restando incastrato in frammenti di paglia e liberandosi, andando avanti con determinazione ostinata e ammirevole. Josh aprì il pugno e ritirò il braccio. L'insetto continuò a strisciare, uscì dalla portata della luce e proseguì nell'oscurità nel suo viaggio determinato. «Chi sono io per uccidere una cosa del genere?» chiese a se stesso. «Chi sono io per dare la morte anche alla più piccola delle forme di vita?» Ascoltò il rumore del vento che fischiava attraverso dei buchi nelle pareti e rifletté sul pensiero che poteva esserci qualcosa nel buio. Dio o il diavolo o qualcosa di più elementare di entrambi, che guardava all'umanità come lui aveva guardato allo scarafaggio. Meno che intelligente, di certo fastidioso, ma che lottava per proseguire il suo viaggio senza mai arrendersi, superando ostacoli o aggirandoli, facendo tutto quello che doveva per sopravvivere. E sperò, se fosse mai arrivato il momento per quel pugno elementale di cadere, che anche il suo proprietario si fermasse. Josh si avvolse nella coperta e si distese sulla paglia per dormire.